Bella a tutti Forniters, benvenuti e bentrovati su Leontube, eccoci in questo video per andare a fare l'incarico degli incarichi in mezzo inverno consuma flop rinnevati o nasconditi in un comando di neve subtolo allora per fare questo incarico veniamo qui, in questo punto qui, veniamo a vedere se il nostro personaggio, se il personaggio, Lila mi sembra sia, vende il comando di neve subtolo oppure possiamo andare a pesca e pescare un pesce, un pesce flopper innevato che ci congelerà diciamo ci dovrebbe congelare, ora lo andiamo a vedere, intanto vediamo se lei per caso l'hanno sbloccata e vende no, non lo vende, perfetto, quindi rimane ancora questo bug per cui non vende il comando di neve subtolo quindi lo possiamo comunque cercare, trovare ovunque in giro per la mappa adesso ci richiamo in una zona invece dove c'è dell'acqua e quindi dove poter andare a pescare per completare l'incarico, quindi andiamo qui e qui sarà tutto ghiacciato, ok comunque, ah eccoli la, invece i buchi da pesca ci sono il più sarà trovare eccola la canna da pesca, la troviamo perché c'è il, eccola anche qua, c'è il molo ok, prendiamo la nostra canna da pesca, siamo anche abbastanza imboscati qua andiamo al molo che è più e abbiamo trovato anche il comando di neve subtolo, quindi l'incarico lo riusciamo a fare tranquillamente avete visto si trova in giro, tra l'altro lì questo è un flopper ma non è innevato comunque lo proviamo a consumare, no, ok, è il flopper normale vediamo se troviamo anche il flop rinnevato questo non è di sicuro attendiamo quello sembra sempre lo stesso anche perché ne dobbiamo trovare 3 o nasconderci dentro 3 occuparsi di neve se è il comando di neve subtolo eccolo qua flopper innevato eccolo qua, lo abbiamo trovato, vediamo quanti sono, intanto mi faccio questo così me ne pesco degli altri laggiù dobbiamo farne 3 a scelta ovviamente, quindi possiamo farne sia uno che l'altro sta sparando a me io sto pescando, lasciami stare per favore perché sto cercando il flopper innevato che ha pure freddo ok qui c'era ancora tra l'altro sono venuto qui nella zona innevata eccolo qua perché c'è anche l'incarico di danneggiare gli avversari dai pesce dai pesce niente, di danneggiare gli avversari nelle zone innevate allora quindi ora noi abbiamo il nostro bel fucilino ok, l'abbiamo eliminato fase 1 fase 1 sono 250 qui ne abbiamo fatti 150 intanto ci mangiamo questo qua per finire lo scudo torniamo al nostro lavoro di pesca ma giusto per farvi contenti e farvi vedere a parte sono già full diciamo ok, buon fucile comunistico allora eccolo qua prendiamo il nostro bel pesce se ce lo fa mangiare si, ce lo fa mangiare ci fa i piedi di ghiaccio vedete abbiamo fatto uno adesso lanciamo il bel pupazzetto di neve se ce la facciamo vediamo eccolo qua e ci nascondiamo al suo interno 2 di 3 e in questo caso noi possiamo o mangiare un altro flopper o nasconderci ancora e avete visto come è stato semplice completare questo incarico il più è andare a trovare il materiale che ci serve per completarlo se questo video ragazzi vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel mi piace condividetelo con i vostri amici iniziate a sostenerci iscrivetevi al nostro canale cliccate la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti inoltre lasciate sempre un commento che è molto gradito ciao a tutti